Tragedia in piazza Costanzia Fano, un anziano cade dalla bici e muore, forse per un malore. Minacce, furti e rapine anche ai danni di minorenni. Un diciottenne arrestato dalla polizia di Pesaro per gli investigatori non si faceva scrupoli nel commettere reati. Nelle Marche è messa un allerta meteo arancione, in arrivo temporali e raffiche di vento fino a Burrasca. A Senegaglia il sindaco Livetti chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado. Non fai il vaccino e pubblica i video dei passi fuori dalla mensa perché senza Green Pass. Su Fano TV parla Lucio Basso, l'infermiere veneto sospeso e lasciato senza stipendio. Partito nell'area Vasta 1, secondo camper vaccinale. Fino a venerdì stazionerà alla cooperativa Tre Ponti di Fano. Nicola Barbieri è pronto per il suo secondo mandato come sindaco di Mondolfo. Lavori in corso per formare la nuova giunta. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli. È morto dopo essere caduto dalla bicicletta. Armando Ademi, un anziano di 88 anni che questa mattina ha perso la vita in piazza Costanzi a Fano, forse a causa di un malore. Sentiamo in particolare nel servizio di apertura che è stato curato da Letizia Marchionni. È caduto dalla sua bicicletta ed è morto. Tragedia oggi nel centro storico di Fano dove Armando Ademi, fanese residente a Lido, 88 anni, è deceduto in piazza Costanzi all'altezza del Bar Tabacchi alle 7.40 di questa mattina. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha visto Armando cadere dalla sua bicicletta e accasciarsi a terra, probabilmente a causa di un malore. Tempestivo è stato l'intervento dei sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'area è stata transennata per eseguire i rilievi di legge. Sul posto i carabinieri di Fano e la polizia locale. A Urbino invece due giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni sono stati trovati in possesso di Ascisce prima dell'ingresso a scuola. I ragazzi controllati dalla polizia di Stato sono stati segnalati alla prefettura e seguiranno tutti i provvedimenti del caso, spesso sottovalutati. Tra questi rientrano la sospensione dei documenti per l'espatrio e del patentino di guida fino a un anno, l'attivazione di un percorso terapeutico e socio-riabilitativo con l'invio al servizio pubblico per le tossicodipendenze, più le spese connesse a queste procedure che ammontano a diverse centinaia di euro. E ci spostiamo a Pesaro dove un neomaggiorenne è finito in carcere con l'accusa di aver messo a segno diversi furti e rapine. I dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un neomaggiorenne ritenuto responsabile di alcuni episodi di rapina e furto pluriaggravati. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Pesaro dopo gli approfondimenti investigativi della squadra mobile, rafforzati anche dagli elementi probatori acquisiti in occasione dei numerosi interventi delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dai quali è emersa la responsabilità dell'indagato in almeno cinque episodi dilettuosi che si sono verificati tra febbraio e agosto del 2021. Nel primo caso, il giovane, in compagnia di amici minorenni, dopo aver gettato a terra un coetaneo, lo aveva minacciato con un coltello e gli aveva sottratto alcuni euro e un telefono. In un'altra circostanza, invece, avevano spintonato e minacciato due minorenni per farsi consegnare del denaro colpendone uno con un pugno. Inoltre, il giovane ed un altro ragazzo sono risultati coinvolti in un furto con effrazione in uno stabilimento balneare dal quale erano stati rubati gelati e bottiglie di vino. In un altro episodio, poi, si era impossessato di una city bike lasciata parcheggiata dal proprietario nelle vicinanze di una chiesa. Ma non solo. L'indagato sarebbe responsabile anche di un furto e i danni di un'anziana signora. Infatti, approfittando dell'ospitalità della donna, le avrebbe sottratto un anello d'oro. Dalle minuziose indagini compiute dagli investigatori e coordinate dalla Procura della Repubblica, è emersa una particolare inclinazione delinquenziale del neomaggiorenne che, a dispetto della giovane età, ha dimostrato di non avere scrupoli nel commettere i reati, in particolare contro il patrimonio. La Protezione Civile delle Marche ha emesso un'allerta meteo arancione per criticità idraulica e idrogeologica. L'avviso è valido dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani, giovedì 7 ottobre. Previste piogge diffuse e persistenti, ma anche raffiche di vento fino a Burrasca, cioè fino a 87 km orari. Le temperature subiranno un netto calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. E visto il messaggio di allerta della Protezione Civile, il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Resteranno chiuse anche le strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni, i centri diurni per disabili, i servizi di assistenza domiciliare e il trasporto sociosanitario. Inoltre è stato annullato il mercato settimanale del giovedì, con l'obiettivo, si legge, di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni situazione di pericolo. E a Fano invece nel tardo pomeriggio si è riunito il COC, il centro operativo comunale, per una ricognizione sullo stato del territorio fanese in vista del maltempo. E' stato deciso di avviare le fasi di monitoraggio da parte dei volontari della Protezione Civile, ma al momento non sono state prese decisioni. Adesso apriamo la pagina della sanità con l'intervista che abbiamo realizzato a un infermiere del Veneto che è stato sospeso perché non ha fatto il vaccino. A suo carico però ha due procedimenti disciplinari, uno dei quali legato a una protesta con dei video pubblicati sui social nei momenti in cui mangiava fuori dalla mensa perché senza Green Pass. Siamo una minoranza che giorno per giorno diventa sempre più consapevole. Io voglio lasciare questo messaggio. Noi siamo delle brave persone. Chi ci ha buttato addosso del fango è una cattiva persona. Da eroi a delinquenti. Aveva raccontato a un quotidiano di Vicenza la sua opinione e le ragioni della sua volontà di non vaccinarsi. E poco dopo si è visto arrivare due procedimenti disciplinari il risultato a casa e senza stipendio. È la storia di Lucio Basso, infermiere di 53 anni, che dal 2011 si occupa di promozione della salute nel Dipartimento di Prevenzione ed esattamente nel presidio dell'Ulss 7 Pedemontana di Tiene in Veneto. Lucio è pro vaccini ed è a favore di un'educazione e di un'opera di convincimento sulla base di una corretta informazione, ma è contrario all'obbligo imposto dal governo su un farmaco sperimentale. Poi quello che ha spinto verso una contrapposizione, ci ha spiegato l'infermiere, è stata una frase del direttore, il quale, riferendosi ai sanitari non vaccinati, avrebbe detto che è meglio che si trovi in un altro lavoro. Da una parte ho avuto un procedimento disciplinare, come sta succedendo per la vicequestore di Roma. Quando io sono uscito nel giornale, l'articolo è stato pubblicato il 17 aprile e poi ho ricevuto un provvedimento disciplinare. Questo è avvenuto il 21 di maggio e ho dovuto prendermi un sindacato, ho scelto un sindacato per la mia difesa e il bello di quel giorno là è che fuori dall'ospedale, dalla sede della direzione generale, c'erano 300 persone che veramente inaspettatamente mi davano sostegno, perché è stata una delle prime azioni pubbliche dove qualcuno di noi ci metteva la faccia. Dopo questo episodio, ha proseguito Lucio, rientro dalle ferie e il 16 agosto mi sono trovato a non poter più entrare in mensa per via dell'obbligo del Green Pass. Allora ho deciso un'altra azione che è quella che mi sono messo a mangiare davanti alla mensa, sugli scalini dove gli altri entravano. Io avevo quasi un barbone, mi mettevo a mangiare là, ho deciso di fare questo insieme, concordando con il sindacato, questa azione di protesta chiaramente. E io ho deciso di mangiare qua, nell'anticamera della mensa, la mensa della vergogna, della vergogna, ecco lì là, e spero che i colleghi si rendano conto che è meglio vergognarsi e scegliere da che parte stare, perché stanno diventando complici. Qui, questa è una postazione interessante, qui c'è la scala della mensa, ecco, parlo con la gente, saluto tutti, questo è il secondo giorno. Ecco, siamo al terzo giorno di questa vergogna collettiva e si va avanti insomma, si va avanti perché alla fine vinceremo noi. A causa di questa protesta, con dei video pubblicati su Facebook, Lucio ha un altro procedimento disciplinare in corso, l'audizione a sua difesa, doveva tenersi lunedì 4 ottobre, ma è stata rimandata di una settimana. Questa è stata l'azione pubblica che ho deciso di fare, quindi con questi due procedimenti disciplinari in corso. Mentre la sospensione riguarda proprio il fatto di non essermi vaccinato e quindi io dal 24 di agosto, un po' alla volta, sono arrivati a me e ho ricevuto la sospensione. Sui social lei ha scritto penso che il Green Pass passerà alla storia come una vergogna tutta italiana, rimane ancora di questa idea? Una cosa così aberrante, così divisiva, credo ricordi solo brutti tempi che molti non vogliono paragonare, però che sono parte della nostra storia e che possono sempre ritornare perché sono, come dire, nelle nostre coscienze collettive, sono storie che si sono insediate in noi. Intanto l'infermiere sta ricevendo tantissimi attestati di vicinanza. Mi sono arrivati aiuti veramente di tutti i tipi, dai soldi ai pomodori, per dire, cioè è una cosa molto bella. Gente che mi ha regalato cose che non mi sarei aspettato. Quindi la solidarietà c'è ed è molto importante. Poi quello che ho capito e quello che sto anche facendo con tanti colleghi è quello veramente di fare gruppo, telefonate, di dare sostegno a vari livelli perché qualcuno è andato fuori di testa con le sospensioni e purtroppo molti si sono si sono vaccinati non perché credono in questo pseudo vaccino ma perché sono stati ricattati. Di fatto è un'estorsione vera e propria però insomma ci penseranno gli avvocati a dimostrarlo perché queste persone si sono vaccinate non per un loro credo farmacologico diciamo, medico ma semplicemente per non perdere il lavoro e ci sono storie veramente drammatiche. Nelle ultime 24 ore nelle Marche si è verificato un decesso legato al coronavirus si tratta di un 68enne residente a fermo tra le nuove diagnosi invece i positivi riscontrati sono 73 Macerata è la provincia più colpita con 27 casi mentre a Pesor Urbino se ne contano 12 negli ospedali della regione i ricoverati sono 55 in totale meno 6 rispetto a ieri cala leggermente sia il numero di pazienti in terapia intensiva che quello dei degenti in semi-intensiva Intanto prosegue la campagna vaccinale dell'area Vasta 1 fino a venerdì il secondo camper stazionerà alla cooperativa Tre Ponti di Fano Al calendario vaccinali di ottobre si aggiungono anche le nuove date dei camper itineranti infatti l'area Vasta 1 oltre al primo mezzo utilizzato per somministrare le seconde dosi di vaccino sta impiegando un secondo camper dopo l'avvio di sabato scorso nel comune di Urbino da oggi a mercoledì stazionerà nel parcheggio della cooperativa Tre Ponti a Fano dalle 10 alle ore 17 non serve la prenotazione è sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità compilare l'apposita modulistica e poi rispettare il periodo di osservazione di 15 minuti dopo l'iniezione Nella prima quindicina di ottobre sarà prevalentemente dedicato ad offrire le prime dosi a lavoratori che ancora non si sono vaccinati come sappiamo dal 15 ottobre per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati occorrerà essere obbligatoriamente muniti di Green Pass quindi o vaccinati con entrambe le dosi oppure esibire un test antigenico molecolare per SARS-CoV-2 ogni 48 ore Terminata questa prima fase aggiunto Carlotti il camper 2 sia ad ottobre che a novembre sarà dedicato alla somministrazione delle prime dosi nelle fiere sagre paesane e luoghi del divertimento la prossima settimana da martedì a venerdì stazionerà sempre dalle 10 alle 17 nei poli industriali dell'entroterra i luoghi che verranno stabiliti a breve potranno essere consultati sul portale e sulla pagina social di Azure Marche quindi l'obiettivo è quello di recuperare ulteriormente persone non ancora vaccinate anche col camper 2 mentre il camper 1 proseguirà la sua campagna nei siti già visitati con l'obiettivo fondamentale di offrire nelle stesse location visitate in agosto e settembre le seconde dosi Nella città di Fano si parte proprio dalla cooperativa Tre Ponti? Sì abbiamo sposato questa iniziativa da parte dell'Azur abbiamo insieme a Gino Bartolucci che è il presidente della cooperativa Tre Ponti io rappresento la CNA che è l'associazione elettoriale delle imprese delle piccole e medie imprese proprio per incentivare la vaccinazione per far sì che il mondo del lavoro non abbia maggiori ripercussioni rispetto a quelle che ha già avuto e quindi speriamo che le imprese anche con questa iniziativa proprio atta a agevolare e a incentivare la vaccinazione rispondono in maniera positiva Ancora cronaca ennesimo incidente oggi in via Roma Fano di fronte al distributore so alle 14.20 un 19enne del posto alla guida di una Citroen C3 stava provenendo dal centro città quando nello svoltare a sinistra per entrare nell'area di servizio si è scontrato con uno scooter tipo Scarabeo condotto da un fanese di 65 anni che stava viaggiando nella corsia di marcia opposta il centauro rimasto ferito è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santa Croce sul posto la polizia locale per i rilievi di legge ed ora torniamo a parlare delle elezioni comunali andiamo a Mondolfo Marotta dove Nicola Barbieri è stato riconfermato sindaco con l'85% dei consensi riprende in mano le chiavi del municipio Nicola Barbieri rieletto per la seconda volta sindaco del comune di Mondolfo un trionfo per la lista da lui guidata a fare città che ha vinto con ben 5.587 voti pari all'85% a fronte del 15% ottenuto dal suo sfidante Anteo Bonacorsi con la sua lista Futura tu al centro con un'affluenza alle urne del 57% circa degli aventi diritto la squadra di Barbieri si è affermata in tutti i 15 seggi elettorali una testimonianza della fiducia della cittadinanza che ha fatto ottenere al primo cittadino oltre 2.300 voti in più rispetto alla vittoria di 5 anni fa ora a due giorni dalla riconferma l'obiettivo ha spiegato Barbieri è quello di formare una nuova squadra la prossima settimana annunceremo la nuova giunta la scelta per gli assessori sarà guardando sia le preferenze ottenute ma anche l'esperienza di questi 5 anni perché vogliamo dare continuità al lavoro che è stato fatto nello scorso mandato e poi daremo le deleghe anche a tutti i consiglieri comunali proprio per un maggior coinvolgimento una maggiore incisività nell'azione amministrativa tra dieci giorni sarà convocato il primo consiglio comunale per i nuovi eletti sarà la prima esperienza ha spiegato Barbieri siamo contenti che ci siano diversi giovani sia in maggioranza che all'opposizione tanti sono i progetti inseriti all'interno del programma amministrativo verrà poi riconfermata la riduzione dell'indenità di sindaco e assessori per realizzare progetti per la città ci sono tanti progetti che porteremo avanti alcuni sono stati avviati e li completeremo appunto nei prossimi mesi altri sono già finanziati e quindi partiranno i lavori a brevi penso al percorso ciclopedonale che collega Centocroci con San Gervasio alla sistemazione dell'illuminazione pubblica su Viale Carducci la manutenzione delle strade che era già prevista e già in programma negli scorsi mesi e poi ci sono tutti i punti del nostro programma amministrativo che porteremo avanti assieme a tutta la squadra di fare città riconfermeremo la riduzione dell'indenità di sindaco e assessori a favore dei progetti per la città con tutta la squadra di fare città abbiamo deciso di mettere nei prossimi anni queste risorse per le famiglie e i bambini in particolar modo per la sistemazione dei parchi pubblici quindi nuove attrezzature nuovi giochi da troppo tempo questi giardini sono rimasti abbandonati negli ultimi anni abbiamo fatto diversi interventi ma ne servono tanti altri per migliorarli ancora a favore appunto delle famiglie dei bambini del territorio lo vedete alle mie spalle Damiano Bartocetti lascia la presidenza della Proloco di Monbaroccio infatti dopo otto anni si è concluso il suo percorso nell'associazione di volontariato sono stati anni bellissimi ha commentato sui social pieni di sacrifici ma allo stesso tempo di crescita personale Monbaroccio ha proseguito grazie all'efficiente lavoro della Proloco in collaborazione con il comune ha raggiunto un livello nazionale ed internazionale di promozione e di accoglienza turistica sono felice e orgoglioso del nuovo gruppo che si è formato sperando che mantenga alto il profilo creato in questi anni con un po' di dispiacere lascio l'incarico a concluso ma sarò sempre pronto e a disposizione per qualsiasi necessità e adesso apriamo l'album di Fano TV questa sera facciamo gli auguri a Giorgio Biagioni e Rossella Bartolini residenti a Lucrezia di Cartoceto che domenica scorsa hanno festeggiato 50 anni di matrimonio e adesso invece facciamo gli auguri a un'altra coppia che oggi festeggia ben 70 anni di matrimonio le nozze di ferro loro sono Livia Bacciaglia e Rolando Ferretti di Acqualagna e vi annuncio che lunedì partirà la nuova stagione di primo cittadino il primo ospite sarà il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato al convegno d'apertura della settimana dell'artigianato dal titolo artigianato in micro e piccolo imprese quale futuro e in quale contesto allora buona serata arrivederci a domani A presto A presto A presto A presto